Ciao ragazzi e ragazzi, vi voglio mostrare per ora due o tre prodotti low cost. Iniziamo da questi, sempre di Revolution Green, troppo forte. Qua c'è il suo specchio e qua ci sono i colori, è molto simile a quella che ha mostrato Elisa. Elisa è la tua di Shrek, è abbastanza simile, è sempre scrivente, guardate questa ad esempio, quest'altro, sono molto scriventi e questo è quello che ho utilizzato oggi per il make-up. E' molto scrivente e carina. Si trova da Revolution, ovviamente, come sito o su OVS. Io prendo un po' di carta, sono molto molto pigmentati. Poi, sempre della stessa collezione, c'era questo rossetto, una tinta labbra con la sua matita e un cofanetto così. I prezzi sono molto modici, non me li ricordo, però veramente sono modici. Ed è questo, una tinta labbra molto molto forte, cioè persistente e ha la profumazione squisita di lampone, una cosa del genere. Almeno ciliegia, buonissimi. Poi, volevo mostrarvi sempre di Revolution, una delle palette che ho preso anche, che è questa qua, che assomiglia alla linea, è quella che ha mostrato Ambra Rasa, osservatrice Scaltra, ma le tonalità sono diverse. Mi ho acquistate due, la volta prossima vi mostro l'altra. Guardate, molto molto belle, ed è quello che ho applicato qui. Poi, e questo è tutto sullo costo di Revolution. Sempre da OVS. Se c'era questa palettina DM, ma non è del DM, è questa, insomma. Ma la belle, non è low costa, però c'è il suo specchiettino, perdonate, ma come facevano a non acquistarla? È super super super. Io ho utilizzato questi qua, e li ho messi qua, bellissimi, ma sono burrosissimi. Guardate questi. Sembra un albero di Natale oggi. Ovviamente non ne applico più, perché sono molto, molto, molto scriventi e belli. Mi piacciono tantissimo. E non sono low coste. Sapete che io, non so, c'è sotto, Makeup Collection, non lo so. È un nome molto breve. Comunque da OVS si trova. Cercherò di leggere bene questo marchio qua sotto, e ve lo scrivo nei commenti. Nulla, questo, la mia palette, le mie due palette, le mie tinte lava, con questo vi saluto. E vi mando un bacione grande. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.